Internet Festival, non diamo ancora i numeri ma possiamo comunque tracciare un bilancio di questa ottava edizione? Il bilancio è sicuramente molto positivo sia in termini di presenze di persone che hanno seguito tutte le nostre iniziative sia in termini di capacità di approfondire gli argomenti che abbiamo via via affrontati quindi da questo punto di vista credo che il Festival abbia dimostrato anche quest'anno che si può continuare a crescere perché gli argomenti sono sempre diversi sono sempre più interessanti. Faccio un esempio abbiamo avuto una presenza eccezionale all'incontro con molti protagonisti tra cui Marco Ventivogli che è un importante sindacalista sulla blockchain abbiamo avuto presenze notevoli a tutta la parte riguardante i diritti e l'intelligenza artificiale che è un tema di facilissima comprensione, di impatto abbastanza di solito per addette ai lavori abbiamo avuto presenze anche su temi come quello della cyber security che ha visto per esempio la regione toscana e le università toscane a presentare il loro progetto di convergenza su questo tema in modo da aiutare soprattutto le piccole e medie aziende ad affrontare queste problematiche grande partecipazione anche agli eventi diciamo più di spettacolo in particolare o di cultura come in particolare ricordo che l'incontro con Alessandro Baricco che ha presentato il suo nuovo lavoro che si chiama The Game ha avuto una presenza di circa 850 persone quindi di grandissimo interesse quindi direi i numeri li faremo nei prossimi giorni ma il bilancio è sicuramente molto positivo Ecco, un festival che ha provato veramente a parlare a tutti, a parlare all'impresa, a parlare ai cittadini a parlare anche ai giovanissimi come testemano i tanti giovani che sono al Verdi quest'oggi per Elisa Maino questa star di social Sì, i giovani sono il nostro target principale, non è l'unico, il nostro target sono i cittadini di qualsiasi età di qualsiasi grado di istruzione eccetera ma i ragazzi ovviamente sono quelli ai quali dedichiamo la maggioranza delle nostre cure abbiamo avuto una notevolissima partecipazione a quelli che noi chiamiamo i T-Tour cioè i percorsi formativi alle ex Benedettine dove c'era la possibilità e c'è ancora oggi la possibilità di interagire con strumenti, interagire con esperienze digitali molto avanzate e anche agli eventi spettacolari come appunto quello che si tiene nella giornata conclusiva che è quello dell'incontro per esempio con Elisa Maino che è una youtuber di grandissima notorietà tra i ragazzini, magari le persone di maggiore età non dice nulla a questo nome ma invece tra i ragazzini è assolutamente molto molto nota Grazie a tutti